Io dico a te, Milano, tutto l'amore carnale che uomo può avere a una città, e ora, avendoti veduto anche te insudiciata dalla morte, dovrei dire a te tutto il dolore carnale che, ma no, silenzio, e quanto profetico, mi suona ora il titolo di questo libro, Ascolto il tuo cuore, città. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il palazzo della Montecatini potrà servire ad illustrare... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.